Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare una proposta che avrà poi nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi ulteriori sviluppi sulla quale noi chiederemo incontri ai gruppi parlamentari e anche ovviamente al Ministro della Transessione Ecologica e agli esponenti del governo. Noi avvertiamo da tempo l'esigenza di una legge quadro sul clima. Che cosa vuol dire legge quadro sul clima? In molti paesi europei, il primo è stato la Gran Bretagna, addirittura ormai 15 anni fa circa, i vari stati si sono dotati di una legge quadro sul clima che ha permesso loro e permette loro di tenere sotto controllo non solo la legislazione specifica, e quindi di avere una governance specifica ma anche di tenere sotto controllo tutto il quadro dei provvedimenti che assumono. Se noi abbiamo l'esigenza di tagliare in modo radicale la CO2, è evidente che abbiamo anche la necessità di allineare tutte le politiche che noi facciamo a questo obiettivo. È un obiettivo che ormai è diventato imprescindibile. Credo che sia quasi inutile citare gli innumerevoli episodi che ci ricordano che la crisi climatica sta andando forse più veloce di quanto si era previsto. Ormai è diventato usuale leggere sui tweet, su web, i commenti dei climatologi e dei meteorologi che dicono che non mi sarei mai aspettato di vedere qualcosa come questa. I 50 gradi in Canada, nella British Columbia, chi c'è stato sa che è una regione dove il clima è relativamente mild, ma nello stesso tempo dove le temperature sono veramente non alte, ma molto più basse di 50 gradi. I 50 gradi raggiunti in Canada sono un campanello d'allarme fortissimo, ma in realtà io credo che quello che vediamo di meno, percepiamo di meno, per esempio la drammatica siccità che ormai da anni sta attanagliando la California, ma anche altre parti del mondo, che quest'anno sta raggiungendo dei livelli fortissimi, sta veramente incidendo sulla vita delle persone. Quindi il cambiamento climatico non è un di più, non è qualcosa di cui ci si occupa con tutto il tempo possibile, abbiamo perso molto tempo e dobbiamo andare più veloci. Per fare questo bisogna dotarsi degli strumenti che lo consentano, che consentano quindi al governo e ai cittadini di raggiungere gli obiettivi climatici, ma consentano anche alle aziende di adeguarsi e di avere una timeline chiara. Per questo una delle proposte più significative che noi facciamo è quella di dotarsi di un budget di carbonio, cioè di un limite massimo di carbonio che si può emettere, e poi fare anche dei budget settoriali. Questa è la cosa che nessuno è stato finora capace di fare, ma soprattutto serve a uscire dall'equivoco. L'equivoco che è non nel mio settore, fate nel settore dell'altro. Ancora oggi sentivo qualcuno che parlava in questi termini. Questo ormai è qualcosa che non ha più senso in presenza di un target di taglio delle emissioni al 2030 del 55% a livello europeo, per esempio, ma noi auspichiamo che questo target venga portato ai livelli che la comunità scientifica ci indica, per ottenere una cosa che per l'Italia è vitale, cioè limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo, perché tutte le previsioni di impatto dicono che il Mediterraneo è una delle aree che rischia di essere maggiormente colpita e il nostro paese è fortemente rischio sotto vari punti di vista. Ci sono degli impegni internazionali e comunitari, c'è anche una necessità di adeguamento e di percorso dal punto di vista economico. Quindi sono modalità che non fanno comodo soltanto al clima, ma fanno comodo anche alla traiettoria economica. Oggi ci si lamenta del 55% e ci si lamenta del dover rispettare delle scadenze, per esempio nel phase out del motore a combustione interna, ma noi sappiamo benissimo che quella scadenza costituisce per gli operatori economici una certezza, quindi è qualcosa che non è che contro l'economia, fa comodo all'economia. Il budget di carbonio come viene costituito secondo noi? Viene proposto da un comitato tecnico-scientifico che però naturalmente poi si rivolge al governo il quale può e deve tener conto di questa proposta perché ovviamente se il governo decidesse un budget diverso dovrebbe motivarlo. Questo comitato tecnico-scientifico, lo vedremo dopo, dovrebbe essere formato da persone effettivamente competenti di varie discipline scientifiche, ma senza nessun addentellato con naturalmente gli interessi economici e questo è uno dei punti più importanti perché è ovvio che la governance vuol dire anche accompagnare la transizione senza essere sospettati di rallentarlo o comunque di fare gli interessi di un settore piuttosto che dell'altro. noi proponiamo anche che si faccia una review dei vari provvedimenti proprio per cercare di allinearli che questo comitato possa fare una review dei vari provvedimenti per allinearli a quello che serve dal punto di vista del taglio delle emissioni. Abbiamo anche inserito una proposta che abbiamo preso dalla legge spagnola e cioè la questione delle assemblee dei cittadini sul clima è qualche cosa che si sta sperimentando. In realtà in Francia l'hanno già fatto e ha portato delle proposte anche molto buone. Bisogna naturalmente fare in modo che i governi li ascoltino perché è un po' come per la società civile. Noi abbiamo spesso e volentieri tante buone idee però poi dobbiamo anche essere ascoltati perché altrimenti rimangono lì le buone idee. La legge sul clima deve affrontare anche tutta la questione della riforma fiscale. Noi sappiamo che di solito la cosa più comoda è accantonare la riforma fiscale però a livello anche internazionale sempre più si sta discutendo della necessità di una carbon tax e comunque anche per quel che riguarda l'Europa e quindi il sistema ETS è di un prezzo minimo del carbonio che in qualche modo rendi la transizione e non faccia tra l'altro fare passi avanti e passi indietro perché questo è molto disdicevole e porta molto documento e porta molti danni per la transizione midesima. E' molto importante quello che noi chiamiamo il piano di azione per la crisi climatica bisogna che in qualche modo si metta tutto insieme perché attualmente ci sono diversi strumenti ma noi dobbiamo avere chiaro dove vogliamo andare sulla mitigazione e dove vogliamo andare sull'adattamento. Potremmo spendere qualche parola sull'adattamento perché purtroppo è veramente considerato una specie di cenerentola. noi a livello internazionale come ambientalisti lo mettiamo alla stessa stregua della mitigazione nel senso che è ovvio che se non tagliamo, azzeriamo direi le emissioni non andiamo da nessuna parte e i fatti recenti hanno dimostrato che di fronte alla potenza e alla distruttività di alcuni fenomeni c'è poco adattamento da fare si possono minimizzare i danni ma le vittime, le distruzioni avvengono quindi dobbiamo cercare di evitare il cambiamento climatico più catastrofico ma nello stesso tempo noi abbiamo necessità di misure forti di adattamento e anche di ripensarlo in modo innovativo da questo punto di vista giace nei nostri cassetti da tempo immemorabile un piano che non ha completato tutto l'iter e che doveva essere rivisto ma sta ancora lì e questo è francamente una cosa che non va bene tra l'altro chi se a livello locale ci si lamenta si ricordi che anche a livello locale e a livello regionale si possono fare efficaci politiche di esattamento e quindi si può anche cominciare a lavorare ultima cosa ma non ultima per importanza la giusta transizione questo da qualcuno viene indicato ovviamente qua compensazione non si intende compensazione alle aziende questo da qualcuno viene indicato come un modo per rallentare la transizione ma in realtà è il contrario perché abbiamo visto che quando la transizione non va abbastanza veloce rischia di far crollare interi settori e quindi di mettere maggiormente a rischio i posti di lavoro quindi bisogna prepararsi e anticipare la transizione perché essa sia giusta e non solo questo naturalmente la giusta transizione vuol dire usare i soldi diciamo del gettito fiscale soprattutto in senso ambientale per minimizzare gli effetti sociali della transizione e fare in modo che le persone in carne e ossa abbiano un'alternativa sia come lavoro sia come altre misure di attenuazione degli effetti io mi dimiterei a queste parole ovviamente non si vede l'ultima cosa perché mi dice che la scheda grafica non supporta su Zoom però mi dimiterei a queste parole per illustrare il senso della proposta noi insomma il centro di tutto come diceva anche un collega parlando prima dell'inizio di questo webinar è la governance della transizione in questo senso bisogna allineare le politiche bisogna monitorarle questo sarà compito del comitato tecnico scientifico e bisogna soprattutto far trasformare e non aspettare che la trasformazione ci piombi sulla testa questo è quello che volevo dire a inizio del webinar mi scuso perché Donatella Bianchi presidente del WWF Italia per questioni di viaggio e di controlli eccetera eccetera non riesce a essere presente perché hanno costato il volo però darei subito la parola ad alcuni degli intervenuti ringraziando tutte le associazioni che con noi del WWF vogliono supportare questa proposta e che hanno iniziato questo percorso che durerà parecchio tempo fatemi anche ringraziare per il suo appoggio personale edo Ronchi già ministro e presidente della fondazione per lo sviluppo sostenibile che è qui per dare la sua personale adessione alla proposta allora io inizierei se voi siete d'accordo andando con un minimo di ordine alfabetico delle associazioni con Pippo Nusno prego grazie Maria grazie salve a tutti credo che questa iniziativa abbia un valore importante perché noi siamo diciamo all'indomani di una approvazione di una legge europea sul clima questa legge europea sul clima come sapete è sostanzialmente allineata con gli obiettivi del pacchetto del 55% questa legge era in qualche modo ispirata dalla legge tedesca che aveva gli stessi obiettivi perché è stata impugnata da un gruppo di associazioni tra cui anche Greenpeace e la corte costituzionale tedesca l'ha parzialmente bocciata proprio identificando nella debolezza degli obiettivi una sorta di incostituzionalità questo è importante perché noi nel nostro dibattito in Italia invece all'indomani di un pacchetto europeo che noi giudichiamo non sufficiente vediamo le reazioni dei vari settori che improvvisamente apparentemente si sono svegliati e sono ritrovati all'interno di una traiettoria che è condivisibile nella direzione anche se non è condivisibile nella rapidità della transizione qual è il compito di una legge tra i vari qual è il compito di una legge per il clima il compito di una legge per il clima intanto è coordinare le politiche dei vari settori e io credo che in questo senso l'ambientalismo deve cercare di fare noi cerchiamo di farlo tutti nel nostro settore con le nostre campagne di essere un ambientalismo trasformativo cioè la natura dell'ambientalismo di fronte alla crisi climatica non deve essere semplicemente di difesa della biodiversità che dobbiamo difendere o della difesa dell'ambiente naturale ma deve essere trasformativa nel senso di indurre i cambiamenti che ci vogliono perché le nostre città le nostre società possano vivere all'interno dei limiti definiti dalla crisi climatica e per far questo in un certo senso se volete ognuno di noi con le sue campagne con le sue attività quello che cerchiamo di fare sostanzialmente è quello di esprimere una domanda di innovazione a tutti i livelli di innovazione tecnologica di innovazione culturale ma credo che questa occasione della proposta di legge sul clima sia anche quella di un'innovazione se volete politico istituzionale e probabilmente è solo l'inizio di un cammino perché sappiamo come nelle procedure autorizzative le competenze concorrenti di Stato e Regioni spesso creano più problemi di quelli che invece risolvono quindi credo che la traiettoria e la strategia di avere una piattaforma per la legge sul clima significa in qualche modo copiare lo schema europeo migliorandolo e cercare di e questo sarà credo il compito che abbiamo nei prossimi mesi di dimostrare come un quadro normativo coerente può essere un anzi è la condizione necessaria perché le innovazioni e in Italia il nostro tessuto produttivo è molto meglio di come è rappresentato di come è rappresentato sia dalle associazioni di categoria che ancora peggio dalla politica e io credo che una legge di questo genere possa essere un contributo per attivare un meccanismo virtuoso quindi grazie Maria Grazia e penso che insomma sarà avremo occasione per poter continuare a battagliare con questa piattaforma grazie a te Pippo e adesso vorrei dare la parola a Mauro Albrizio di Lega Ambiente e poi se voi mi consentite chiederei a Eno Ronchi di 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 darci la sua la sua la sua opinione su queste proposte grazie Maria Grazia io innanzitutto ribadisco ancora una volta il pieno sostegno di Lega Ambiente a questa iniziativa che è di grandissima importanza soprattutto nel nostro paese il nostro paese manca di una governance climatica in grado di fronteggiare l'emergenza climatica con gli strumenti necessari non va dimenticato che attualmente nel nostro paese non esiste una politica climatica organica noi siamo l'unico paese dell'Unione dei 27 paesi membri dell'Unione Europea che nel suo piano nazionale clima ed energia non ha fissato un target economy wide ossia è entrata nella zona grigia della normativa europea per cui nel nostro PNIEC c'è solo un target per i settori non ETS da un'analisi del PNIEC e fatto dall'ISPRA emerge chiaramente che il target è di appena il 37% al 2030 per cui è importante che noi attraverso una legge quadro sul clima mettiamo in campo una governance climatica che sia all'altezza e all'avanguardia della sfida climatica perché dico questo? perché lasciatemelo ribadire ancora una volta l'attuale target del pacchetto europeo del 55% apro e chiudo parentesi perché non è questo il momento non è nemmeno da una prima analisi del pacchetto clima e energie nella migliore delle ipotesi andiamo al 54% comunque questa è un'altra comunque è fortemente inadeguata l'ultimo emissions gap report delle Nazioni Unite sottolinea chiaramente che con gli ultimi inclusi gli ultimi impegni quindi il 55% europeo anche noi viaggiamo verso una traiettoria di due gradi e mezzo da qui al 2030 l'Emissions Gap Report dice che dobbiamo ridurre in media annualmente del 7,6% l'anno per stare nella soglia critica di un ecicolo questo per l'Europa significa il 65% per fare questo è importante mettere in campo una governance che attui la parte più virtuosa dell'Accordo di Parigi che è quello dell'aumento automatico e periodico degli impegni sottoscritti in modo da essere in linea con la traiettoria di 1,5 e questo sarà uno degli elementi centrali del pacchetto di Glasgow alla prossima conferenza sul clima a Glasgow dovremo chiudere il rulebook ossia il regolamento attuativo dell'accordo dove uno degli elementi appunto quello di definire il cosiddetto common time frame ossia il ciclo periodico di revisione degli impegni non a caso la commissione non ha inserito nel pacchetto clima energia la revisione del regolamento sulla governance che verrà presentato dopo Glasgow è importante che venga inserita una revisione periodica di 5 anni in modo da incrementare quindi di portare al 2030 l'obiettivo europeo al 65% questo sa significare che l'Italia si deve dotare di una governance in grado di recepire immediatamente queste politiche in maniera organica il piano d'azione climatica previsto dalla nostra proposta di legge è centrale che deve essere una recepimento allargato e più dettagliato di quanto è previsto per quanto riguarda i piani nazionali clima e energia anche perché nel pacchetto presentato lo scorso 14 di luglio è stato introdotto secondo me la proposta più innovativa che è quella del fondo sociale per l'azione climatica entro il 2025 noi dovremo integrare i nostri plani clima e energia anche con un piano di sostegno sociale per l'azione climatica quindi che è uno strumento aggiuntivo al meccanismo per la giusta transizione è evidente quindi che se vogliamo correre dobbiamo avere gli strumenti e le politiche necessarie per correre questa proposta consente al nostro paese di essere all'altezza di questa sfida e noi come legambienti insieme a tutte le altre associazioni faremo il massimo affinché il nostro governo si doti di uno strumento così importante per fronteggiare l'emergenza climatica grazie grazie mille Mauro e adesso darei la parola al a De Doronchi non non do parole di affetto nei suoi confronti perché grazie Maria grazie salvo profitto per salutarvi tutti non l'ho ancora fatto e aderisco e ritengo importante questa iniziativa dalle associazioni ambientaliste per tre motivi il primo abbiamo bisogno di una legge quadro definita tutti i settori la società italiana ha bisogno di un quadro di riferimento normativo su una questione così importante stabilito questo addirittura più che i contenuti ha bisogno di avere un quadro definito noi arriviamo alla cop 26 che comincia il 31 ottobre come uno dei paesi copromotori senza avere aggiornato il quadro nazionale delle politiche climatiche ed energetiche ancora col vecchio Pniec che continuiamo a dire superato però rimane quello e questo è francamente un fatto di indebolimento nel PNR abbiamo fatto alcune scelte ci sono alcuni stanziamenti ma sono al di fuori di un quadro organico di riferimento stabilito e questa è una carenza rilevante occorre definire questo quadro e presentarsi alla cop 26 con le carte in regola non lo siamo secondo perché c'è basta seguire il dibattito politico parlamentare di governo una sottovalutazione della crisi climatica in Italia altro che a Germania politicamente la questione climatica non è in terza in quarta in quinta è proprio fuori dall'agenda politica rientra occasionalmente con qualche servizio informativo caldeggio la proposta di un comitato scientifico forse se la scienza entra in campo in maniera un po' più forte in Italia questo potrebbe avere un effetto anche di impatto sul quadro politico che francamente è assolutamente in ritardo rispetto alla gravità alla velocità e alla portata della crisi climatica in particolare sull'Italia e anche dei potenziali di Green Deal che sono nelle politiche e nelle misure che sono sottovalutati i potenziali positivi il terzo motivo è che in seguito a Fit for 55 europeo il dibattito italiano è prevalentemente il pacchetto è troppo avanzato è troppo sfidante ha dei costi economici e sociali eccessivi a parte che nel dibattito politico sono impressionato dal pensiero unico di questa direzione che è francamente inaccettabile come poca dialettica ci sia stata nel dibattito politico parlamentare su un punto così cruciale la politica climatica è un pilastro del Green Deal innanzitutto il pacchetto accompagnato da una stima dalla Commissione Europea di almeno un milione di nuovi posti di lavoro al 2030 e di 2 milioni al 2050 avete già detto che la proposta diciamo della Commissione del Consiglio non è affatto così avanzata insomma non l'IPCC o diciamo organismi indipendenti che si occupano di queste questioni a vari livelli ma il Parlamento europeo l'8 di ottobre ha votato una proposta di taglio del 60% dice ma no più o meno 60% non includeva gli assorbimenti e quindi è una bella differenza il 55% include 310 milioni di tonnellate di assorbimenti eccoli poi Mauro Brizio diceva bisogna vedere ma il punto fondamentale che comprende gli assorbimenti si chiamano 55% nette quindi comprensive degli assorbimenti 60% votato dal Parlamento non erano nette erano riduzioni rispetto alle emissioni del 90% quindi diciamo la proposta delle associazioni se non conti gli assorbimenti eccolo lì il 65% infatti la motivazione del Parlamento europeo era serviva 60-65 se consideri anche gli assorbimenti per stare su una traiettoria compatibile col grado e mezzo non sicura ma con la probabilità di stare verso il grado e mezzo quindi non stiamo affatto parlando di una di un target particolarmente sfidante ma già diciamo di un compromesso certo ci possono essere anche dei costi sociali ma i vantaggi della riduzione dei costi ecologici dei costi climatici che per l'Italia sono veramente stratosferici è un paese particolarmente drammaticamente esposto ai costi della crisi climatica bisognerebbe mettere questo in primo piano invece questo non viene neanche citato inoltre ci siamo riempiti la bocca del green deal basato sulle misure climatiche perché queste sono in grado di attivare innovazione tecnologica nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro adesso che arriva il pacchetto ci scordiamo di tutto quello che è stato detto fino a ieri e improvvisamente diventa una minaccia per i posti di lavoro e per l'occupazione qualcosa non torna nella logica e ovviamente poi quelli che alzano la bandiera dei costi insostenibili hanno votato in Parlamento mozioni negazioniste fino a due anni fa adesso ovviamente il negazionismo non è più sostenibile molto meglio alzare la bandiera del rapporto fra economia e ecologia ammesso che sappiano cosa significa e di dei costi insostenibili di questo pacchetto ultraverde che distruggerebbe l'economia italiana pazzie pazzie quindi grazie per la vostra iniziativa ho solo un rammarico che sia così scarsamente ripresa ma soprattutto nel dibattito politico e parlamentare questa è la mia sottolineatura beh l'abbiamo lanciata oggi e sappiamo che la strada sarà lunga edo per cui penso che nel prossimo futuro chiameremo anche chiederemo incontri a tutti i gruppi parlamentari raccomanderai in particolare l'attenzione a questo aspetto esattamente sì certo appunto sappiamo di farlo oggi che siamo in prossimità delle vacanze estive però è anche vero che siamo in un momento di forte dibattito appunto ormai si fa gara come dicevi tu sul pensiero unico e quindi è molto importante invece mantenere la barra dritta anche perché poi i soldi fanno sempre comodo ma insomma sono anche legati a degli obiettivi che bisogna ricordarselo non vorrei rubare la parola se non mi bacchetta Francesco Ferrante di Chiodo Club che è il prossimo relatore intanto ringrazio Temere Grazia e il WWF perché siete stati diciamo battistrada in questa operazione che io trovo molto opportuna e la trovo opportuna proprio in questa fase anche se può sembrare quasi una provocazione in questo momento viste le reazioni su cui si è soffermato adesso Edo e su cui io però vorrei aggiungere qualcosa le reazioni italiane al Fit for 55 onestamente in questo momento è più rilevante secondo me e a mio avviso concentrarsi su questo tipo di reazioni per capire quale montagna dobbiamo scalare nei prossimi mesi piuttosto che discutere argomento decisivo interessante è fondamentale per il futuro del pianeta cioè se il 55 è più o meno sufficiente non lo è sufficiente come abbiamo sentito e come sappiamo ma il punto decisivo è capire il pensiero unico che dobbiamo affrontare che non è soltanto una questione dei rappresentanti politici istituzionali su cui è evidente che noi dovremo concentrare la nostra attenzione e la nostra pressione di advocacy nelle prossime settimane mese anche scala l'agosto ovviamente non è quello il tema ma è proprio un pensiero unico guardate che sulla questione il green deal che propone l'Europa diciamo ci porta lacrime e sangue sono d'accordo il fatto e il foglio il diavolo e l'acqua santa tutti d'accordo con Belpietro c'era una di teoria del Belpietro della verità che era diciamo identico a quello che si è potuto leggere su tanti altri giornali tipo progressista sono d'accordo e dicono la stessa cosa e lanciano un'allarme sulla perdita di posti di lavoro sui danni e delle diseguaglianze dei poveri dei più poveri i liberisti alla matriciana come li chiamiamo noi quelli un po' liberisti italiani un po' approssimativi ma che comunque si spacciano tali e i sindacati perché i sindacati hanno fatto i sindacati dell'energia hanno fatto un documento che sostanzialmente dice la stessa cosa che reagisce all'ipotesi della Sardegna tutta elettrica a difesa ancora una volta gli interessi fossili c'è un il sole 24 ore e diciamo è oggi ancora un editoriale su un giornale come dire che si autodefinisce progressista che dice sostanzialmente dice attenzione che se la metrica è quella degli ESG environmental social governance state attenti che environmental è più forte per ora social è meno forte e quindi abbiamo il problema delle diseguaglianze come se il problema delle diseguaglianze nascesse a causa del Green Deal non che in realtà in questi anni le diseguaglianze sono state base fondante del tipo di sviluppo a cui abbiamo assistito non sto qui ad annoiarvi con l'aumento delle diseguaglianze e lo scarto che c'è stato negli ultimi dieci anni che è aumentato in tutte le società occidentali in tutte le società occidentali quindi il tema è questo ed è impressionante e su questo diciamo la il rapporto con il mondo che anche Edo Ronchi rappresenta in maniera completa sarà molto importante quello che è impressionante è che nessuno sembra cogliere le opportunità che il Green Deal offre a questo sistema economico che ci sono santo Dino è quello che mi fa impazzire lo vediamo ogni anno appunto Ronchi e la sua fondazione fanno gli stati generali e chiamano a raccolta la Green Economy e ci fanno un rapporto ce ne sono altri di report analoghi che ci raccontano le eccellenze italiane nel campo dell'economia circolare l'energia rinnovabile l'efficienza energetica che non vengono assolutamente rappresentate in questo dibattito pubblico allora lasciatemi dire fatemi fare una battuta provocatoria non è colpa dei politici quelli poracci leggono i giornali e pensano che la realtà sia quella che hanno letto sui giornali non è diciamo si autoalimentano nella credenza per meglio dire che ci sia quello da difendere le trivelle di Ravenna come se intorno alle trivelle di Ravenna o al CCS di Ravenna si possa costruire un'ipotesi di economia futura e progressiva delle prossimi anni stabile duratura e non attorno a quello che già esiste in cui anche in questo paese esistono eccellenze dell'economia e del lavoro e questo forse il lavoro che dobbiamo fare con più attenzione insieme a quella di advocacy e quindi a legge sul clima aiuta per questo perché dà obiettivi chiari in linea con quelli che ci dicono il mondo scientifico ci dice devono essere rispettati ci dice anche delinea un certo tipo di governance e consente a questo mondo anche dell'economia di trovare una qualche rappresentanza io scusate il Kyoto Club diciamo da questo punto di vista è peculiare perché i soci e il Kyoto Club sono imprese quindi diciamo che hanno scommesso sul fatto fin da tempo il protocollo di Kyoto che quello non fosse solo un vincolo ma anche un'opportunità ma io credo che il mondo dell'ambientalismo nel suo complesso qui molto ben rappresentato possa svolgere questa funzione cercare di dare rappresentanza a un mondo dell'economia che non lo è affatto nel dibattito pubblico italiano grazie mille Francesco ovviamente grazie a tu a Edo Ronchi grazie a Mauro Albrizio e tipo l'ho ringraziato e vorrei dare la parola a quello che rappresenta un po' le giovani generazioni che sono sempre piuttosto coinvolte anche se poi rappresenta un'associazione che c'è da parecchio tempo a Bruxelles che si chiama Transport and Environment Carlo Tritto buongiorno a tutti io intanto volevo cominciare ringraziando per l'opportunità di partecipare a diciamo un webinar con speaker della vostra importanza e poter rappresentare TNI e diciamo perché una legge sul clima ovviamente Transport and Environment ha come focus principale i trasporti i trasporti rappresentano ad oggi il 26% delle emissioni nazionali questo vuol dire circa 108 milioni di tonnellate di CO2 ma non è tanto questo il problema il problema è che negli ultimi 30 anni le emissioni dal settore dei trasporti sono cresciute in modo costante e questo è successo anche perché il settore dei trasporti ha fatto affidamento sul trend decrescente degli altri settori quindi il settore residenziale dei rifiuti e via dicendo quindi bisogna nell'ottica del 2040 2050 quindi di un periodo di medio e lungo termine portare a zero queste emissioni e questo vorrà dire andare incontro ad alcuni temi che adesso sono dei problemi per l'Italia e che andranno modificati e cambiati parto dal tasso di motorizzazione tra i più alti d'Europa abbiamo circa 6 macchine e mezzo per 10 abitanti le auto che rappresentano il 50% delle emissioni dell'intero trasporto su strada bene bisognerà mettere in campo una serie di misure che possano abbattere queste emissioni quindi spostare il trasporto sul trasporto pubblico mobilità dolci elettrificazione dei trasporti e mettere in campo quelle azioni necessarie per poter portare a zero queste emissioni del settore più importante questo è fondamentale da un punto di vista anche della qualità dell'aria che in Italia è un tema davvero dolente per cui ha il triste record di avere tre procedure di infrazione da parte della commissione che ogni anno causa 80.000 morti premature che è un problema estremamente come dire concreto mi permetto appunto di dare anche un po' sfogo e voce alla mia generazione a quella generazione nuova e alle future e nel chiedere che effettivamente il nostro futuro è fragile è più fragile che mai e va cambiato va tutelato e vanno messe in campo delle azioni che possono permettere alla mia generazione e alle generazioni future di vivere un futuro vivibile sostenibile e che sia libero dai combustibili fossili tendenzialmente la porta diciamo alla strategia di lungo termine che l'Europa ci sta formando è sicuramente importante è un buon diciamo segnale iniziale e sul lato trasporti sicuramente porta delle interessanti ambiziosi proposte ma che non bastano basta nel contesto nazionale vanno come abbiamo detto durante tutto questo webinar accompagnate vanno immaginate con delle strategie nazionali di lungo termine che possano dettare l'obiettivo che possano accompagnare un'industria il sistema nazione verso la transizione ecologica permettetemi anche questo piccolo diciamo aneddoto se vogliamo mi sembra la transizione ecologica succederà perché è già in atto e succederà perché la volontà delle delle nostre generazioni ed è un problema che non si può più evitare la questione qui la scelta qui è se essere attori e protagonisti di questa transizione e aspettare che questa ci sbatta addosso bene sembra un po' la situazione tra blockbuster e netflix qualche decennio fa blockbuster grande diciamo compagnia di noleggio di pellicole che quando approcciata da netflix che voleva sperimentare un nuovo trend della digitalizzazione e dei se vogliamo servizi in streaming è stata tra virgolette snobbata e non penso che debba spiegare la fine che ha fatto netflix che è diventato uno dei più grandi diciamo colossi dello streaming e scusate blockbuster è un po' come le cabine telefoniche è un'immagine un po' del passato ecco questo secondo me è la voce che volevo dare io cioè la transizione ecologica è una cosa ed è come ha detto francesco prima è una grande opportunità che dobbiamo prendere dobbiamo prendere per diventare leader in questo e vorrei chiudere semplicemente con le con le parole del vice presidente esecutivo della commissione che dice non è facile la transizione ecologica anzi sarà molto difficile ma la dobbiamo fare e la dobbiamo fare per le nostre generazioni perché è giusto così e non c'è una modalità alternativa a questa grazie grazie mille carlo grazie mille a tutti quanti io posso concludere dicendo sì la polemica politica è qualche cosa che molto spesso lascia veramente perplessi una trentina di anni fa lavoravo alla camera e frequentavo la sala stampa e mi ricordo che c'era la velina la velina bianca e la velina rossa delle veline che venivano passate ai giornalisti non so se Edo se lo ricorda a quei tempi ma non ci sono più quei giornalisti alcuni dei quali erano anche molto di valore ma in effetti continuano a esserci diciamo così dei pensieri che stranamente si ripetono certe volte si ha l'impressione che addirittura chi dovrebbe essere al fiere della transizione ecologica tiri fuori tutti gli argomenti per non farla cosa abbastanza incredibile comunque in ogni caso noi invece abbiamo un altro sguardo non vogliamo farci intrappolare dalle polemiche politiche vogliamo invece andare avanti e fare proposte con la serietà che ci contraddistingue noi vogliamo fare proposte per vivere al meglio la transizione e ci auguriamo che sempre più persone lo comprendano e anche che sempre più persone facciano di questo anche una cartina di giornasore per giudicare i giornali la politica le aziende se con questo succederà la transizione l'avremo già in gran parte fatta la legge sul clima è sicuramente un tassello in questo senso è un tassello però molto importante perché dobbiamo avviare il cambiamento in senso molto più profondo non possiamo continuare a ignorare il fatto che molto spesso le riforme rimangono sulla carta e perché non è tutto il complesso che si muove e soprattutto bisogna dare anche una visione strategica è quello che nel nostro paese manca però è quello che rischia come diceva giustissimamente Carlo nell'ultimo intervento rischia di penalizzarci tantissimo perché chi non ha la visione strategica subirà la transizione e non sarà sicuramente non avrà sicuramente proprio una posizione economica forte ecco oltre a tutto il resto grazie a tutti e spero anzi sicuramente ci aggiorniamo a settembre ciao a tutti grazie grazie arrivederci a presto ciao a tutti ciao 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 grazie